...editori, oggi dedicato alle scienze e siamo infatti qui con il professore Riccardo Carlini. Ciao Riccardo, benvenuto. Ciao, buongiorno. Autore del nostro nuovo testo dedicato proprio alle scienze per la scuola secondaria di primo grado dal titolo Brain. E con noi c'è anche la collega Carmela Gigli, è stata qui di fianco a me. Ciao Carmela, che appunto fa autrici insieme a Riccardo di questa nuova impresa editoriale. Oggi in realtà parleremo più di digitale che di carta, perché rispetto alla presentazione del libro abbiamo già avuto un appuntamento che tra l'altro trovate tra i nostri webinar registrati, quindi se volete andare a rivedervelo trovate le registrazioni sia della presentazione del libro sia di tutti gli appuntamenti che abbiamo fatto con il professor Carlini che abbiamo iniziato quest'autunno. Abbiamo dato vita ad un percorso dedicato alle scienze molto eterogeneo, vero Riccardo? Eh sì sì, abbiamo toccato un po' tutte le discipline, quindi sì certo. Sappiamo che la chimica è la tua vocazione perché sei chimico di formazione, però poi abbiamo toccato dalle scienze della terra alla fisica, insomma tutti i vari ambiti. Allora, prima di lasciarvi all'incontro di oggi vi do un paio di informazioni, vabbè come sapete appunto vi dicevo anche prima, il webinar è registrato e troverete anche la registrazione di questo incontro sull'area dedicata del sito Lattes, insieme alle slide che vi presenteremo. È previsto un attestato di partecipazione che riceverete via mail come di consueto. E ultimo, ma non meno importante, vi invito ad utilizzare la chat che trovate in basso a destra, lo strumento che avete a disposizione per interagire con noi, quindi per mandarci delle domande, dei commenti o restituirci la vostra esperienza in classe. Insomma, usatela così cerchiamo di fare un incontro il più possibile in forma dialogica. Bene, allora, non sottrago altro tempo e vi auguro un buon ascolto. Eccoci qua, allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Come ha anticipato Letizia, oggi ci concentriamo sul digitale in Brain. Probabilmente alcuni di voi hanno già preso parte agli altri appuntamenti, ormai quella del professor Carlini è una community, quindi ci sono proprio dei veri, e propri fan che seguono il suo lavoro e anche questo progetto editoriale che stiamo portando avanti in tutta Italia. Probabilmente molti di voi avranno già toccato con mano il testo, è già arrivato nelle scuole, quindi avete avuto modo di sfogliarlo. Molti di voi erano con noi a Didacta e hanno visto insieme al professor Carlini, che era lì in carne ed ossa insieme a noi, la presentazione del libro e in particolare l'aspetto legato al digitale. Per chi non era presente all'ultimo incontro di presentazione del progetto, spendo proprio giusto due parole per darvi un quadro di che cos'è Brain. Brain è un testo totalmente nuovo, una nuovissima proposta editoriale di Lattes, scritto da professor Carlini, da Raffaele Pentimagli e Chiara Viaggi, un team di autori che vive e lavora nella scuola da anni ed è attento alle esigenze didattiche a 360 gradi. Un testo che è nato proprio poche settimane fa, visto la luce, e quindi è nato in un contesto quanto mai attuale. Non solo per quanto riguarda l'aggiornamento dei contenuti, ma soprattutto per quanto riguarda l'attenzione verso le esigenze didattiche attuali di classi eterogenee, sia per quanto riguarda provenienza, composizione, vocazione, attitudini, stimoli, capacità di apprendimento, stili di apprendimento, e per quanto riguarda anche le difficoltà che gli insegnanti ogni giorno si trovano ad affrontare. Entrando all'interno del testo, facciamo vedere appunto un insight su alcune parti, diciamo, più specifiche, in particolare con un focus, questa volta sul digitale. Come diceva Letizia, chi vuole poi vedere la presentazione completa, quella un po' più approfondita, anche per quanto riguarda le rubriche, i laboratori di cui è ricchissimo il testo, può recuperare il video senza problema, oppure può chiedere al proprio agente di zona di visionare il testo, che sta già circolando nelle scuole. Vi mostro adesso, prima di passare all'ambiente scienze, che è un po' il cuore di questo nostro appuntamento, gli elementi digitali che trovate all'interno di Brain. Come sapete, l'attest da tantissimo tempo, ha cavalcato anche in anticipo rispetto al panorama editoriale italiano, il tema del digitale come strumento di apprendimento funzionale, alla didattica in classe, alla didattica in autonomia, e anche a stili di apprendimento differenti, o a strategie didattiche differenziate, come il cooperative learning. Brain è ricchissimo di attività digitali, di materiali digitali, sin dall'apertura di unità. Come potete vedere, sulla sinistra, abbiamo un'attività di didattica orientativa, legata a quello che è un bisogno attuale della scuola, quella di orientare sin dalla prima classe, della secondaria di primo grado. E poi, sulla destra, invece, in alto destra, vedete un QR code. Brain è costellato di QR code, in modo tale da poter rendere accessibile, fruibile, in un secondo, materiali digitali, che alle volte si devono, appunto, utilizzare in maniera molto smart. Per cui avete tutto il digitale accessibile tramite Bsmart, che è la piattaforma che collabora con l'attes per la fruizione del libro in formato digitale. Quindi, avete lo sfoglio libro su Bsmart, più tradizionale. Bsmart, che peraltro, tra parentesi, si è anche rinnovata di recente, quindi ha una nuova este grafica, nuove funzionalità. Chi non usa Bsmart, o ha degli studenti, delle studentesse, che magari non fanno difficoltà, nella registrazione, non sono tanto abituati, può anche accedere ai nostri contenuti, tramite QR code. In apertura di unità, il primo QR code che troviamo è quello sulla video lezione. Quindi, una video lezione che abbraccia tutti gli argomenti dell'unità didattica, in maniera sintetica, accattivante, con una grafica fresca, come già potete trovare, su tutti i nostri libri di testo, ed è accessibile in maniera molto veloce, attraverso lo smartphone, oppure il tablet. Se entriamo all'interno delle lezioni, ogni lezione ha un suo QR code. Come vedete, è indicato, appunto, quali sono gli elementi che troverete. In questo caso, c'è un video e c'è un quiz. Ce ne sono veramente tantissimi, di materiali digitali. Chi già conosce i nostri testi, sa quanto siano ricchi di digitali, i testi lattes, e ovviamente questa tensione, non può essere crescente, man mano che passano gli anni, anche perché viene sempre rinnovata, viene sempre aggiornata, con nuovi strumenti, e nuovi materiali, via via più anche, diciamo, accattivanti anche per gli studenti e le studentesse. Quindi in questo caso, appunto, abbiamo dei video e dei quiz che gli studenti e le studentesse possono utilizzare in appoggio alla lezione. Si possono vedere in classe, volendo, attraverso la limbo, la touch di classe, ma anche per la lezione individuale, per quegli studenti, magari, che vogliono approfondire un argomento, tramite QR code, si può visualizzare un quiz e farlo magari in autonomia. A proposito di QR code, un'attività che è unica nel suo genere, che abbiamo inserito quest'anno e che sta piacendo moltissimo ai docenti che hanno in visione il testo, è quella dei link. Che cosa sono i link? Sostanzialmente, soprattutto, diciamo, secondo la tradizione, a volte, Riccardo, correggimi se sbaglio, le scienze, soprattutto nella secondaria di primo grado, vengono un po' trattate come se fossero delle scatole chiuse, in cui difficilmente si riesce a far dialogare tra di loro concetti afferenti a discipline diverse. In realtà, nella pratica didattica, non funziona come nei libri di testo, in cui, alle volte, magari, chi adotta la versione tematica deve trattare prima la parte di biologia, poi la parte di chimica, poi c'è invece il libro dedicato a scienze della terra, ma sono concetti e temi e tematiche, argomenti che, in maniera cosmotica, mi verrebbe da dire, dialogano costantemente. Quello è il problema pratico, in classe e che, alle volte, quando si fa, ad esempio, si parla, ad esempio, dei neuroni, vengono chiamati in causa alcuni concetti, come l'esocitosi, che magari si è trattato l'anno prima in biologia, oppure non si è avuto tempo di fare, o si farà l'anno successivo, perché, insomma, costantemente vi è questo problema di andare a recuperare, magari, dei concetti, o non ancora affrontati, o affrontati l'anno precedente, o che i ragazzini non avevano ben compreso, insomma, Riccardo, è un po' un problema pratico, ed è anche un po' la necessità di far capire che la biologia, la chimica e la geologia non sono separate, ma dialogano. Sì, certamente. Da insegnante lo posso confermare, perché noto che, quasi sempre, i ragazzi hanno difficoltà proprio nel ricordare alcuni concetti che sono stati trattati l'anno precedente, o comunque sia in precedenza. E questa modalità fa sì che i ragazzi stessi riescono a concepire la scienza, il libro di scienze, proprio come un unicum. Quindi, la possibilità di non vedere i quattro tomi diversi, come del resto possono essere magari dei libri di letteratura o quant'altro, che in effetti hanno una scansione temporale. Il libro di scienza necessariamente deve essere suddiviso in volumi, perché altrimenti dovremmo portarci dietro sempre tutto il tomo. Però, in questo modo, riusciamo a collegarci direttamente, proprio mentre facciamo la lezione, e riusciamo a recuperare alcuni concetti che sono stati trattati, o comunque sia ad anticipare alcuni concetti che potranno essere trattati successivamente, in modo rapido. Cosa che è sempre molto difficile. I ragazzi stessi, in questo modo, possono evitare di portare due, tre libri ogni volta che noi decidiamo di affrontare un argomento. E questo discorso dei link serve anche a noi insegnanti per avere una massima serenità proprio nell'affrontare gli argomenti che vogliamo trattare. Il discorso della diciamo serenità intesa come capacità di affrontare appunto eventuali problematiche o comunque sia costruire proprio un ambiente didattico più sereno, più tranquillo, agevole, è alla base proprio di tutti questi interventi che abbiamo proposto. Poi se ne vedranno altri, uno fra tutti appunto proprio ambiente scienza. Quindi creare l'ambiente didattico favorevole all'insegnamento è proprio quello che ci rende più partecipi, rende più partecipi gli studenti stessi e con questi espedienti noi riusciamo a andare in quella direzione. Tra l'altro se siete curiosi di sapere cosa succede andando sul QR code quello che si apre appunto un piccolo approfondimento molto snello, molto sintetico che però dà una visione chiara, immediata e corretta di che cosa siano in questo caso le molecole. In questo modo appunto si agevola sia l'apprendimento ma anche il lavoro del docente. Riccardo, tu una volta mi hai detto che aiutare il docente non è un atto di ruspianeria ma è proprio un modo per semplificare la vita vuol dire migliorare l'apprendimento perché poi il docente è preso da mille cose riunioni verbali anche tanta burocrazia e semplificare il lavoro del docente rende poi l'apprendimento più efficace quindi anche avere modo di accedere direttamente a un contenuto che riguarda qualcosa che in teoria abbiamo fatto un anno e mezzo fa semplifica il lavoro di tutti. Questo è sicuro come dicevi purtroppo noi stiamo diciamo occupandoci fin troppo della burocrazia a discapito proprio della didattica quindi in qualche modo dobbiamo riuscire a proporre tutti gli argomenti in modo piacevole sia per lo studente ma sia per noi stessi quindi in modo gratificante tutte queste agevolazioni che un libro di testo propone e che noi insegnanti esigiamo da un libro di testo sono sicuramente fondamentali perché ripeto ci consentono di favorire una didattica migliore e favorire una didattica consentitemi il termine più rapida più snella cosa che è richiesta purtroppo dai tempi scolastici e dai ritmi scolastici odierni quindi in effetti confermo quanto quanto hai detto sì ok sempre a provvedo di QR code adesso come vi dicevo non vi riproponiamo il format dell'ultima volta in cui vi è proprio tutta la carrellata delle rubriche quindi anche tutte le rubriche legate all'educazione civica abbiamo sia sosteniamo il futuro sugli argomenti legati alla sostenibilità sia una rubrica legata alla salute insomma poi c'è un libretto in aggiunta non ci soffermiamo di nuovo su quanto vi abbiamo detto nella presentazione complessiva un QR code che però voglio farvi vedere è quello legato al gioco delle emozioni perché in questo caso si tratta di un materiale molto specifico in cui sostanzialmente andando a fare questo gioco delle emozioni legato al sistema nervoso si scaricano le carte le carte che servono per fare questo gioco che è all'interno di un percorso di consapevolezza emotiva e che si può fare in chiave di educazione civica ci dice Giuliana che ha ricevuto Brain ma scendendo il QR code del libro non si apre nulla allora nel momento in cui voi ricevete la copia saggio c'è soltanto una demo di soltanto un'unità in cui al momento è disponibile tutto il materiale digitale lo stiamo ampliando proprio in questi giorni probabilmente già la settimana prossima fra pochissimi giorni dovremmo integrare tutto il digitale di biologia se non sbaglio comunque voi potete contattare il vostro agente di zona e se avete bisogno di avere un'anteprima più approfondita noi ve la forniamo potete anche vedere lo vedrete poi dopo Ambiente Scienze su quello dovreste già avere una demo che o vi ha passato il vostro agente di zona magari su Whatsapp oppure se vi ha consegnato il Deplian illustrativo che vi parla del prodotto anche in quel caso potete visionarlo però in ogni massimo tutti i testi hanno una demo sul digitale in questa fase insomma di presentazione quindi spero di aver risposto tornando invece al digitale presente all'interno del libro al termine dell'unità ovviamente ci sono c'è tutta la batteria di verifiche con l'attivazione delle competenze disciplinari e competenze europee in questo caso abbiamo dei materiali un po' più tradizionali ma estremamente necessari i docenti che ce lo chiedono ogni volta e sappiamo essere molto utili perché sono scalabili modificabili adattabili alle esigenze di ciascuno e sono i powerpoint e i google moduli che abbiamo inserito in ogni unità una cosa che invece è un po' più diciamo un po' meno tradizionale è un dizionario che abbiamo inserito all'interno della pagina del CLIL appunto a Riccardo ma anche noi ci tenevamo particolarmente a curare con attenzione la parte sul CLIL perché adesso magari Riccardo ci dirà due parole ma il CLIL è fondamentale soprattutto in ambito STEM e il CLIL è necessario in qualche modo accompagnare anche questa attività didattica particolare quindi in questa pagina c'è una sintesi di uno degli argomenti trattati in un'unità c'è un'attività sul lessico da acquisire e un piccolo esercizio di riassunto che non è semplice lo sappiamo ma è diciamo il terzo step per magari quegli studenti o quelle studentesse che hanno già una padronanza un po' più avanzata della lingua siccome il lessico tecnico è diciamo una parte fondamentale di acquisizione per chi adotta il metodo CLIL su una disciplina scientifica tecnico-scientifica abbiamo deciso di inserire un dizionario CLIL anche questo appunto inquadrabile col QR code scaricate la paginetta con tutto il dizionario dell'unità in modo tale che i studenti e studentesse possano accedere velocemente al lessico di base di quell'unità sì il discorso appunto del CLIL è fondamentale dobbiamo ricordarci che un aspetto davvero basilare per la scienza è proprio il linguaggio la scienza è una delle poche discipline che ha un suo linguaggio particolare io da chimico logicamente sono molto sensibile a questo perché noi chimici abbiamo proprio un nostro linguaggio il nostro alfabeto la tavola periodica le nostre parole sono le formule e le nostre frasi sono le reazioni però oltre a questo proprio il linguaggio della scienza ormai da possiamo dire decenni è quello inglese quindi in qualsiasi diciamo su qualsiasi disciplina vogliamo andare a indagare noi possiamo farlo soltanto leggendo articoli internazionali logicamente lingua inglese quindi già questo deve essere trasmesso ai ragazzi perché serve anche per iniziare a selezionare un po' proprio il discorso delle fonti quindi selezionare le fonti iniziare ad approcciarsi in questo aspetto e logicamente è un inglese che non è quello classico che si studia ma è un inglese tecnico quindi necessario è il tutto il vocabolario quindi il dizionario legato proprio a questo inglese tecnico e fondamentale è proprio la CLIL perché ci mette in condizioni di riuscire tutte le volte ad analizzare un testo che è fondamentalmente un testo scientifico riuscire proprio a far interagire e a lavorare su questo testo proprio per far prendere familiarità ai ragazzi sulla lettura e sull'elaborazione e la rilaborazione di questi testi che poi può essere trasferita a eventuali approfondimenti fatti magari in classe o da soli su testi che possono essere a tutti gli effetti testi ritenuti scientifici e ufficiali come possono appunto essere ad esempio articoli su giornali e riviste internazionali quindi il CLIL nel discorso diciamo nell'ambito proprio delle STEM è per quanto ci riguarda un punto fondamentale che deve essere trattato molto bene ed approfondito in modo efficiente efficace ma pur semplice quindi abbiamo cercato di unire le due cose proprio fornendo un'attività completa ma naturalmente tutti gli strumenti per poterne usufruire al meglio bene sì nel frattempo appunto abbiamo anche risposto in maniera più puntuale sì l'unità è l'unità uno del volume B quella sulla cellula per intenderci quindi lì avete tutti i materiali in questi giorni stiamo espandendo su tutto il volume anche se avete piacere di sfogliare altre parti però l'unità demo è sul volume B su biologia entrando adesso un po' diciamo nella ciccia della questione la guest star non so la superstar anzi del digitale di Brain è Ambiente Scienze allora finora abbiamo visto tutta una serie di materiali che sono all'interno del libro che in maniera diciamo un po' più prevedibile quasi per scontato giustamente la professoressa diceva io fin quando non vedo anche il digitale non faccio l'adozione perché perché il digitale ormai dalla pandemia in poi ancora di più è connaturato all'interno dell'esperienza didattica quindi fin quando non vedo bene come sono queste risorse che avete messo all'interno cosa succede quando entro su Bismarck come lo sfoglia libro cosa si apre se c'è scritto video non faccio l'adozione perché il digitale non è più una cosa carina che agganciamo al libro di testo ma fa parte dell'esperienza didattica ed è giustissimo noi da anni lo diciamo uno step ulteriore in questo senso l'abbiamo fatto con Ambiente Scienze che cos'è Ambiente Scienze è un vero e proprio ambiente di apprendimento un ambiente digitale a cui potete accedere quando avrete adottato il testo tramite Bismarck al momento potete vedere anche qui una versione demo con alcuni contenuti tra cui la cellula l'atomo l'apparato respiratorio il sistema solare e qualcos'altro insomma avete 7-8 contenuti da visionare su una carrellata molto più ampia in modo tale da poter capire le potenzialità di questo prodotto adesso ve lo facciamo vedere mettendo in condivisione il test lo schermo scusate adesso chiedo l'aiuto tecnico ok condivido scusate ma sono pur sempre un essere umano anche se parliamo di digitale qua ok eccoci qua ok lo vedete Riccardo lo vedi dammi tu un feedback io no allora condivido una finestra non lo vedi Riccardo no non vedo adesso niente vediamo provo a fare tu il bello della diretta si dice di solito effettivamente così allora eccoci vediamo spero di essere risolutiva adesso mi sento caricata di grandi aspettative non so vediamo forse meglio ora è meglio sì ora si vede non si vede non si vede in schermo intero se vuoi provare ambienti scienze con lo schermo intero niente scienze con il quadratino in basso adesso vado io ok adesso vediamo bene no adesso lo vedete anzi lo vedi Riccardo perché tu sei la voce del popolo non si vede non si vede di nuovo non si vede di nuovo forse perché lo schermo intero interrompe la condivisione ah ok allora prova a farlo senza lo schermo intero comunque dovreste comunque vederlo allora adesso non si vede di nuovo in realtà non ci eravamo preparati questo numero no no non ho sketch anche perché funzionava prima quindi ma per interrompere un po' il discorso facciamo riprendere ecco adesso si vede adesso bene a proposito della chimica delle emozioni un po' di adrenalina ci vuole quindi ma che per fare ora si vede si vede si vede in piccolo ma si riesce a vedere bene e adesso ora facciamo la prova del 9 si ok la vedete si ok allora ambiente scienze è questo sostanzialmente ora che siamo riusciti a condividere lo schermo che poi sembra le cose piccole a volte sono più difficili comunque condiviso lo schermo entriamo dentro ambiente scienze allora aspettate ecco qua ok allora appena voi aprite ambiente scienze attraverso la la demo che vi viene inviata su whatsapp su instagram qualunque sia il contatto che avete con il vostro agente oppure se avete ricevuto il depliano informativo su ambiente scienze c'è un QR code lo inquadrate il consiglio di fare la prova magari almeno da tablet ma da cellulare si vede perché in realtà la destinazione d'uso di quest'ambiente di apprendimento sarebbe la touch di classe o la limb anche la limb tradizionale oppure il pc se preferite far lavorare ragazzi col pc magari a gruppi comunque più grande si vede meglio è c'è un po' l'effetto wow da sfruttare ma anche la necessità di poter esplorare tutti gli oggetti 3d che sono compresi all'interno di quest'ambiente al meglio quindi avete poi biologia chimica e così via scegliete ciò che vi interessa su cui si basa la vostra lezione in quel momento e potete insomma scusate perché ho qui la telecamera davanti quindi se mi sposto non è perché sono impazzita all'improvviso ma proprio per una necessità di guardare potete andare a vedere appunto la cellula ad esempio come funziona il 3d allora innanzitutto c'è questa barra per fare uno zoom in zoom out molto semplice su ambiente scienze non abbiamo creato nessun tipo di tutorial non abbiamo scritto neanche una riga di spiegazione non perché siamo pigri ovviamente ma perché le funzioni di base sono pochissime è stato studiato apposta per essere molto semplice non tanto semplice per l'utilizzo dei docenti ma soprattutto perché può essere usato anche dagli studenti in classe sulla touch per cui ogni singolo studente o studentessa può arrivare alla lavagna e interagire con l'ambiente digitale quindi si può ruotare l'oggetto che stiamo trattando si può appunto zoomare ma cosa più interessante ancora si possono isolare le varie parti dell'oggetto quindi in questo caso la cellula con tutti gli organuli e poi c'è un testo che appunto entra nel merito di quell'oggetto singolo e ne spiega la natura le caratteristiche e così via quindi si può fare un'esplorazione a 360 gradi molto più approfondita di quanto si fa magari di quanto si riesce a fare solitamente nei libri di test dove comunque lo spazio è poco e bisogna un po' scontrarsi con il fatto che le pagine sono quelle che sono non possiamo darvi libri da 1200 pagine ogni volta però questo strumento ci consente di andare ad approfondire alcuni argomenti che magari agli studenti e studentessi interessano di più che stuzzicano la loro fantasia la loro curiosità oppure che a noi piacciono perché intercettiamo in questo modo un maggior coinvolgimento e soprattutto rendono l'apprendimento molto molto più significativo noi l'abbiamo presentato a Didacta è piaciuto tantissimo l'ambiente scienze perché appunto gli insegnanti che erano proprio venuti lì ad ascoltare le nostre presentazioni sono detti entusiasti di uno strumento che non è soltanto bello da vedere quindi da sfruttare l'aspetto wow ma è utile per catturare l'attenzione della classe cosa molto spesso difficile è utile per far visualizzare concetti che alle volte sono molto astratti e che i ragazzi non riescono tanto ad agganciare all'esperienza concreta ed è uno strumento che è stato sviluppato proprio in virtù del lavoro in classe come vedete abbiamo anche inserito degli altri strumenti di appoggio oltre all'esplorazione 3D poi Riccardo ti lascio la parola così dici anche autore barra docente volevo solo fare una panoramica sulle funzionalità come vedete sono pochi tasti ma utili al lavoro in classe non abbiamo inserito niente che non fosse utile al lavoro dei docenti ci sono degli ambienti digitali 3D che si possono magari comprare con dei software alcuni sono già installati nelle LIM sono prodotti un po' preconfezionati con dentro di tutto di più cose anche inutili cose mancanti insomma non sono prodotti studiati per il lavoro in classe in Italia nel 2024 questo l'abbiamo proprio creato su misura delle esigenze che avvertiamo dai nostri docenti di giorno una di questi è ok io guardo la cellula molto bella ma adesso cosa faccio? intanto inseriamo delle domande con cui stimolare il gruppo classe a verificare di aver appreso alcuni concetti fondamentali quindi abbiamo sempre una batteria di domande per ogni oggetto che esploriamo abbiamo fatto l'esplorazione della cellula ok ma adesso come ci lavoriamo? abbiamo risposto alle domande ma adesso con queste domande cosa facciamo? attraverso queste domande ad esempio possiamo costruire una mappa le mappe concettuali lo sapete meglio di me sono la cosa più utile del mondo e purtroppo molto spesso è difficile far passare questo metodo di lavoro in classe noi abbiamo tantissime attenzioni sulle mappe concettuali abbiamo anche dei libri dedicati esclusivamente all'utilizzo delle mappe concettuali però continuiamo ad avvertire la difficoltà dei docenti a far realizzare mappe concettuali in classe abbiamo quindi voluto fare un ulteriore sforzo verso questo strumento didattico importantissimo che è quello di costruire la mappa concettuale insieme in classe come vedete è tutto molto semplice a livello proprio di fruibilità si tira semplicemente la freccetta con i connettivi e insomma i vari vettori che possono collegare i vari concetti e si costruisce una mappa insieme la mappa si può salvare e viene salvata o sul pc o sulla lima secondo di dove la stete usando potete caricare una mappa precedente che avete fatto magari la settimana prima potete cancellarla potete rifarla da capo e così via questo strumento della mappa è così semplice e versatile che potete anche decidere di utilizzarlo non tanto per fare la mappa o non solo per fare la mappa ma anche ad esempio può essere un'attività di etichettatura ad esempio in questo caso abbiamo la cellula per ogni organulo inseriamo il testo di riferimento a ciascuna componente della cellula e quindi a turno in classe veniamo a completare con tutte le etichettine per inserire membrana ribosomi e così via il nucleo eccetera e insomma si presta anche un'attività di questo tipo si presta essere uno strumento di più semplice appunto non so chi lo usa individualmente a casa attraverso pc può decidere di usare questo strumento come blocco note appunto da aggiungere al suo studio sulla cellula insomma le potenzialità sono molte perché è uno strumento estremamente flessibile e soprattutto ci dicevamo anche con Riccardo ne abbiamo parlato anche a didacta con i docenti è utile per far calare nella realtà diciamo più tangibile più concreta concetti molto astratti vero Riccardo come ad esempio l'atomo che adesso mi sposto con la testina vi faccio vedere sì intanto che ci spostiamo penso che sia molto interessante riflettere su due aspetti diciamo su due messaggi che è fondamentale far arrivare i ragazzi e che si diciamo troviamo molto spesso primo che la percezione della scienza è sempre così lontana è sempre così difficile proprio perché quasi sempre abbiamo a che fare con qualcosa di troppo piccolo qualcosa di troppo grosso quindi non riusciamo bene a visualizzare quello che effettivamente stiamo studiando quindi dobbiamo dare un po' tutto per diciamo dobbiamo fidarci di quello che ci viene detto o meglio gli studenti devono fidarsi di quello che noi diciamo altra cosa fondamentale davvero su cui riflettere è il concetto del modello noi necessariamente non noi diciamo gli insegnanti e comunque sia tutti coloro che scrivono e che pubblicano testi pubblicano dei testi cartacei e mettono dei modelli nel bidimensionale perché la carta quello ci consente quindi di per sé già si perde una dimensione e perdendo una dimensione molto spesso perdendo la profondità non riusciamo a far capire a fondo i concetti che sono legati proprio alle strutture pensate un attimo a qualcuno che insegna da anni come me chimica che insegna biologia quanto possa essere difficile riuscire a parlare di una cellula e riuscire a far capire ad esempio la differenza tra tra un coronavirus e un altro tipo di virus perché abbiamo sempre a che fare con un bidimensionale ecco che ambiente scienza va proprio a sfondare questo a squarciare questo velo e ci consente di vedere e di acquisire una tridimensionalità che è fondamentale per una didattica efficace quindi ci consente nuovamente di riprendere in mano la potenzialità e l'utilizzo dei modelli i modelli che ci devono aiutare a comprendere meglio la teoria ecco che riuscendo a manipolare a maneggiare come vedete ad esempio la cellula riuscendo ad estrarre estrapolare degli organuli che in questo caso non riusciremo a vedere nel bidimensionale riuscire ecco pensate un attimo al mitocondrio quasi sempre lo si vede proprio in una prospettiva ma non se ne percepisce la profondità o addirittura non se ne percepisce bene diciamo le proporzioni all'interno della cellula perché per vedere bene un mitocondrio come fatto dentro necessariamente dobbiamo ingrandirlo oltre modo e quindi far perdere le corrette dimensioni le corrette proporzioni nella cellula in questo modo non c'è bisogno noi partiamo da una cellula perfettamente diciamo dimensionata e poi possiamo ingrandire i singoli oggetti per riuscire a percepirne tutti gli aspetti quindi in questo caso per la biologia ma nell'altro caso appunto nella lo studio diciamo dell'atomo stesso lo studio delle delle molecole nel piccolo come del resto poi si può andare vedete ecco una classica un classico problema è quello di riuscire a disegnare una molecola nel bidimensionale ci perdiamo comunque sempre qualcosa perché qualche atomo verrà eclissato da qualcuno che è davanti e sicuramente ci perdiamo la tridimensionalità quando invece in questo caso noi riusciamo a vedere tutta la tridimensionalità a vedere come effettivamente non è poi così difficile riuscire a concepire la struttura delle molecole riusciamo a vedere i doppi legami cosa che sembrano sempre concetti molto astratti e riusciamo addirittura a costruirle noi poi le molecole perché riuscendo a capire come effettivamente si dispongono nel tridimensionale riusciamo a riprodurle proprio dal punto di vista reale anche perché in quest'ottica ci sono molte attività pratiche che diciamo possono essere sia ripetute o comunque possono trarre molto vantaggio da questo ambiente scienza questo per quanto riguarda il piccolo ma poi come vedremo più avanti non siamo vincolati solo al microscopico perché riusciamo a vedere la stessa cosa anche aumentando poi le varie dimensioni ad esempio se parliamo su biologia appunto andando appunto su biologia riusciamo a vedere come questo possa essere utile anche per le dimensioni che sono diciamo alla nostra portata quindi ad esempio questo che diciamo rasenta un po' proprio l'animazione a cui siamo stati spesso abituati e riusciamo invece a vedere come effettivamente uno squalo sia composto al suo interno e quindi altro aspetto importante riusciamo a fare quell'anatomia comparata che in questo caso è davvero comparata perché banalmente possiamo aprire due schede e mettere in relazione alcuni organi presenti nello squalo presenti mi sembra abbiamo la rana e la gallina quindi presenti nei pesci negli uccelli negli anfibi mettere in relazione con i nostri i nostri organi e quindi farne vedere analogie e differenze cosa che non si può fare se non aprendo due libri e comunque sia vedendo il tutto in una bidimensionalità che rende i modelli del tutto inefficaci a volte sì e oltretutto anche un aspetto che è emerso proprio parlando con i docenti dal vivo a didacta in questi giorni era quanto poi sembra banale lezioso magari andare a visionare proprio tutto lo squalo all'interno andare a vedere come è fatto però oltre a un aspetto di didattica legata alla programmazione quindi anatomia comparata che a volte è impossibile fare con gli strumenti tradizionali ma risponde anche all'esigenza ci dicevano alcuni docenti di intercettare proprio le curiosità degli studenti adesso magari i ragazzini sono abituati a non so vedere video su youtube o anche di carattere scientifico magari più illuminati accedono a video accattivanti a insomma animazioni interessanti e quindi andare a scoprire insieme a loro come è fatto lo squalo all'interno è banalmente ma neanche poi tanto lo spunto per partire con una lezione da programma insomma è quel gancio che diciamo cattura l'interesse di un'intera classe e può consentire di nuovo di fare lezioni in maniera più agevole e anche più divertente perché diventa poi più stimolante per tutti lavorare in questo modo sulla touch e integrare insomma la lezione più tradizionale con lo studio delle definizioni insomma tutta quella parte che comunque abbiamo più tutto il corredo di laboratori che abbiamo inserito che vi abbiamo già fatto vedere integrarlo con un'esperienza digitale che è veramente stimolante divertente e magari spendiamo un quarto d'ora a parlare dello squalo e in questo modo possiamo fare possiamo fare lezione a tutti gli effetti facendoci però divertire gli studenti e divertendoci anche noi lato docente vi faccio vedere adesso passiamo no l'epatite B magari anche no passiamo sul corpo umano ovviamente sul corpo umano ci si diverte ancora di più diciamo che il 3D è proprio non stava a san dire è proprio il suo ambiente di lezione andare a vedere il corpo umano così sarà sicuramente estremamente divertente per tutti andiamo a vedere ad esempio l'apparato respiratorio anche in questo caso Riccardo la valenza didattica e l'aiuto proprio che offre un ambiente di questo tipo è enorme e ci dà modo di scendere ma parte in un dettaglio incredibile ma spiegare concetti che sul bidimensionale sul libro di testo tradizionale per quanto possa essere il migliore del mondo come brain ha dei limiti proprio di bidimensionalità per cui alcune cose si perdono e si perde anche il funzionamento stesso di un organo se non riusciamo a vederlo nella sua interezza sì certo pensate semplicemente ai polmoni quante volte noi abbiamo spiegato i polmoni dicendo che ci sono due lobby da una parte e tre lobby dall'altra ma quante volte siamo riusciti a far capire effettivamente che i due polmoni sono in pratica identici quasi sempre i due lobby vengono percepiti come più piccoli rispetto ai tre lobby e che quindi da una parte ci sia un posto una zona riservata completamente allo spazio del cuore quindi con una disposizione anatomica del tutto sbagliata in effetti c'è un piccolo alloggiamento però è tutto diverso i due polmoni sostanzialmente sono uguali altro discorso è proprio ad esempio l'uso del diaframma come fa questo diaframma a funzionare comprimendo e facendo dilatare i polmoni se non muovendosi su un perno che è proprio la colonna vertebrale e quindi se non essendo un muscolo bucato al centro difficilmente in un in una struttura in un disegno bidimensionale riusciremo a far quello che stiamo facendo adesso quindi a far capire come questa muscola cupola sia diciamo costruito in questo modo e quindi sia possibile sia stato realizzato proprio a cupola proprio perché scorre sulla colonna vertebrale quindi non è sia i polmoni che il diaframma tutto davanti o dietro ma scorre proprio lungo la colonna vertebrale e poi del resto tutti gli altri organi ad esempio i bronchi come riescano a diramarsi nei polmoni e a fare un reticolo così fitto e appunto tanti altri aspetti che ripeto tramite l'utilizzo di ambiente e scienza riusciamo ad approfondire e a rendere efficace a differenza dell'uso per quanto buono e per quanto attento del modello nel bidimensionale si vi faccio vedere qualcos'altro ad esempio l'apparato circolatorio anche in questo caso col cuore vene arterie e così via scusate i problemi di coordinazione sistema muscolare sistema scheletrico quindi anche qui ogni volta che vi affrontato un argomento ambiente scienza potete usarlo diciamo come qualità di strumento per la flipped classroom anche perché magari studenti e studentesse possono iniziare a fare un'esplorazione in autonomia e quindi andare un po' a esplorare l'apparato che state trattando oppure si può fare in classe e si può visionare insieme l'organo di cui si sta trattando è veramente flessibile potete utilizzarlo in tutti i modi anche come ripassofinare per consolidare un po' l'apprendimento di sicuro proprio nel mentre si spiega nella fase calda Riccardo poi sei prof quindi lo sai meglio di me mentre si spiega un consolidamento così delle competenze disciplinari non si può desiderare di meglio insomma a parte la sintassi di questa frase però mentre stai spiegando nel cuore della tua lezione a metà lezione mi viene da dire giochi la carta ambiente scienze con cui fai veramente vedere come è fatto l'orecchio fai vedere la tromba di Eustachio gli ossicini e così via io lo userei più così che non magari come momento finale ma lo usi proprio per consolidare l'apprendimento e per far fissare quei concetti nella memoria della classe ma banalmente anche per usare uno strumento che riaccenda l'entusiasmo e riaccenda l'attenzione perché in questo modo sicuramente l'attenzione viene ripresa in mano e viene tradotta in qualcosa di reale pensate ad esempio all'orecchio come in qualsiasi disegno bidimensionale disegno sul cartaceo sia difficile riuscire a distinguere quei famosi tre organelli martello incudine e staffa di cui tutti gli studenti si ricordano quindi dell'orecchio ci si ricorda praticamente solo di quello i ragazzi si ricordano quello e si ricordano magari il timpano eppure non lo riescono mai a vedere si fidano che ci siano questi ossicini che ci sia la chiocciola eccetera in questo caso invece riusciamo proprio a fargli vedere dove sono posizionati le loro dimensioni e i loro rapporti con tutti gli altri organi come si dice nell'osso ad esempio cosa che io come viene inserito dove passa il nervo il nervo acustico e ripeto dopo che magari abbiamo iniziato a fare una lezione teorica introducendo il discorso arriviamo con questo apporto che quindi rende davvero tutto molto più semplice e anche per noi a mio giudizio ci consente a parte di facilitarci il lavoro ma ci consente proprio di trasmettere un qualcosa di più divertente di più piacevole di più coinvolgente ecco più che divertente di più coinvolgente ai ragazzi cosa che molto spesso gli argomenti almeno alcuni argomenti di scienze possono invece non essere percepiti come tali yes e comunque sì quello che dicevi tu del catturare l'attenzione della classe è una cosa che ci hanno detto in molti che è uno strumento utile proprio per catturare l'attenzione e per rendere concreti dei concetti che soprattutto quest'ultimissima generazione fa fatica a comprendere ad agganciare alla realtà sono studenti studentesse molto legati all'aspetto visivo quindi fin quando non vedono fin quando non hanno qualcosa che cattura l'occhio anche in movimento sono abituati sono cresciuti con lo smartphone in mano quindi con video eccetera eccetera quindi bisogna educarli alla parola scritta indubbiamente al testo al ragionamento lento però questa cosa va di pari passo con un venire incontro a quella che è una loro modalità di apprendimento è impossibile comunque da negare vi facciamo vedere ancora il sistema solare anche in questo caso Riccardo si come le valenze didattiche di questo strumento su un argomento bellissimo come sistema solare e intanto io faccio il braccio armato come dicevamo prima abbiamo parlato di quanto sia difficile modellizzare un qualcosa di microscopico a volte forse ancora più difficile modellizzare qualcosa di eccessivamente macroscopico perché la percezione nel sistema solare che è un piccolissimo spazio all'interno dell'universo stesso è molto difficile da realizzare e se per quanto sia abbastanza semplice riuscire a descrivere nel bidimensionale un qualcosa di piccolo perché tutto sommato molto spesso è contenuto e quindi a parte l'atomo che per necessità proprio dimensionali non possiamo descriverlo nelle proporzioni reali reciproche naturalmente stessa cosa avviene per il sistema solare difficilmente riusciamo a trovare una proporzione nelle distanze e nelle dimensioni riportata sul libro sul nostro brain ce l'abbiamo fatta tengo a sottolinearlo perché con tanta fatica abbiamo inserito delle immagini dove possiamo trovare le proporzioni reciproche dei pianeti e delle distanze tra essi corrette naturalmente siamo dovuti scendere al compromesso di non poter riportare anche il sole perché altrimenti saremmo andati fuori però almeno in quello siamo riusciti a farlo proprio perché non l'abbiamo fatto non l'abbiamo fatto proprio perché abbiamo ambiente e scienza che ci consente di percepire come effettivamente il sole sia drammaticamente più grande della nostra terra come le distanze tra un pianeta e l'altro siano completamente diverse e come effettivamente man mano che si vada ad allontanarsi dal sole abbiamo dei pianeti sempre più distanti e le cui distanze sono ben diverse rispetto ai pianeti che sono più vicini al sole quindi la differenza proprio tra le distanze e tra le dimensioni dei pianeti rocciosi rispetto a quelli dei pianeti gassosi quante volte abbiamo detto che Giove se fosse stato circa 25 volte più grosso sarebbe diventato una stella sembra impossibile eppure in questo modo in questo caso lo vediamo stessa cosa non possiamo dirlo della terra e lo vediamo vediamo anche quello perché quante volte si è detto che la macchia rossa quel vortice che c'è su Marte scusate su Giove sia grossa come la terra quindi riuscire a farci percepire che un grosso temporale sia grosso come la terra qui la vediamo proprio ecco guarda qui abbiamo la macchia vedi con la terra in questo caso riusciamo a metterli in proporzione in relazione direttamente quindi senza problemi e possiamo addirittura cliccando e avvicinandoci alla terra o a qualsiasi altro pianeta vedere come effettivamente si presentano le superfici quindi non abbia messi lì dei disegni a caso sono proprio diciamo animazioni e grafiche che riprendono le vere le vere immagini che sono state raccolte e in generale vengono riportate quindi è davvero uno strumento che poi vengono rese in 3D sì infatti è uno strumento davvero utile e guardate i satelliti i famosi satelliti galileiani e riusciamo in questo caso a vederli la loro disposizione cosa che ad esempio se noi poi traduciamo in una attività pratica come può essere quella di vedere Giove con il binocolo telescopio riusciamo a vederli nella realtà e a tradurli su una lezione un libro di testo proprio grazie a questa animazione digitale in questo caso vedete vediamo diciamo il polo di Giove in altri casi possiamo vedere e ingrandire ad esempio gli anelli di Saturno eccetera sono tutte cose che conosciamo che i ragazzi conoscono ma che difficilmente riescono a percepire un'altra cosa che mi viene in mente interessante Urano quando diciamo che Urano rotola sulla sua orbita e non riusciamo a comprenderne il motivo adesso qua lo capiamo il motivo guardate un po' gli anelli di Urano sono gli unici che effettivamente sono perpendicolari al piano e quindi effettivamente riusciamo a capire come il nostro questo pianeta possa rotolare a differenza degli altri che ruotano sulla propria orbita quindi davvero ha delle potenzialità enormi logicamente vanno sapute sfruttare ma i ragazzi in questo sono abilissimi perché hanno una capacità digitale molto avanzata e quindi per certo avranno un riscontro che sarà sicuramente efficace assolutamente io tornerei interrompere la condivisione abbiamo dato un po' una panoramica su torniamo ok dell'aiuto della regia eccoci qua dunque allora ci chiedono nel frattempo scusate non ho guardato la chat perché stavo giocando con ambiente scienze allora le risorse digitali durano la durata dell'adozione nel senso che è come tutte le risorse digitali nel momento in cui adottate il testo che dura tre anni per i tre anni avete accesso come per ogni libro di testo quindi non fa eccezione non ha appunto scadenza i QR code sono e così come l'accesso a bsmart quindi quando voi adottate il testo potete avere accesso in qualunque momento a quei contenuti la idem per i QR code e idem per ambiente scienze non c'è un funzionamento diverso se avete domande su ambiente scienze oppure anche curiosità o volete dirci come lo usereste voi in classe se avete avuto modo di magari chi è passato didacta l'ha provato proprio in diretta ci vuole dire cosa ne pensa noi siamo qui abbiamo ancora un po' di minuti insomma siamo stati sintetici perché ci siamo focalizzati in maniera un po' più specifica sul digitale se avete anche domande su Brain in generale sui laboratori che fa il professor Carlini non abbiamo parlato ma Brain è un testo ricchissimo di laboratori no di ambiente scienza si può vedere scusate rispondo da Adriana Zucconi di ambiente scienza si può vedere ottima domanda la ripeto non soltanto del capitolo 1 ma tutta una serie di oggetti che riguardano i quattro volumi quattro aree tematiche insomma c'è la cellula animale l'orecchio che avete visto prima l'apparato respiratorio l'atomo la tavola periodica che adesso non vi ho fatto vedere ma abbiamo inserito anche la tavola periodica e adesso vi dico anche perché e il sistema solare quindi sono 6, 7, 8 in tutto più o meno in più i videolaboratori non ne abbiamo parlato perché adesso ci siamo focalizzati sul 3D ma ambiente scienze è anche ricchissimo di videolaboratori soprattutto nella parte di chimica anzi forse magari li facciamo anche un attimo vedere adesso vediamo se riesco a fare questa cosa magica di ricondividere adesso esploderà tutto sotto 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 qua ok adesso ancora questo no scusate che siamo sempre in due a farne uno vi faccio vedere così i videolaboratori eccoci qua allora cosa sono i videolaboratori è più intuitivo rispetto al digitale di ambiente scienze alla navigazione di un 3D ma comunque ve li voglio far vedere nel vostro menu avete non si vede non si vede di nuovo no mi spiace oh cavolo vediamo tutto nero allora vediamo un attimo se questo letizia fa la magia adesso adesso sì ok allora avete tutta una serie di videolaboratori al termine degli oggetti 3D quindi anche qui molto semplice c'è tutto l'elenco dei materiali 3D da visualizzare e poi ci sono i videolaboratori un micropegno che sono anche sì naturalmente l'audio è tutto tradotto in italiano perché adesso non si sente però appunto sono tutti filmati dotati di audio tradotti in italiano con un linguaggio con il linguaggio compatibile a quello che è il linguaggio tecnico italiano uno dei limiti nelle traduzioni di certi filmati è proprio quello di una traduzione pedisse qua dove certi termini vengono tradotti malissimo e invece in questo caso abbiamo proprio c'è stata una cura dei testi delle traduzioni quindi sono proprio traduzioni lette dove si utilizzano proprio si utilizza il linguaggio tecnico scientifico italiano sì e sono i videolaboratori che abbiamo commissionato anche questi l'altro ieri nel senso che sono tutti nuovissimi tutti appunto calibrati su quanto è presente nel testo e sono diciamo vanno a coprire anche qui un'esigenza in brain come avrete avuto modo di vedere se l'avete sfogliato se avete visto il nostro incontro precedente ci sono laboratori molto più semplici che sono da fare in maniera diciamo anche individuale o con materiali di recupero ci sono dei laboratori che sono i top lab un po' più complessi con appunto attrezzature di laboratorio con la supervisione del docente e così via non sempre quelli che ne abbiamo chiamato top lab si possono fare vuoi per ragioni di tempo vuoi perché magari non hai l'attrezzatura a scuola o perché magari sono un po' pericolosi e quindi bisogna avere una certa cautela i video laboratori che abbiamo inserito in ambiente scienze sono solitamente per la maggior parte laboratori un po' più complessi tante che la maggior parte sono riguardanti la parte di chimica perché ci sono appunto delle reazioni Riccardo ovviamente ve lo può confermare meglio di me che alle volte possono anche essere difficili da gestire e per cui le scuole magari non sono neanche attrezzate sì sì certo allora di pericoloso tengo a sottolineare altrimenti passa il messaggio che è sempre legato alla chimica di pericoloso diciamo nel top lab non c'è niente sicuramente in alcuni casi c'è qualcosa di difficile che va oltre proprio alla strumentazione dei laboratori se ci sono o addirittura l'assenza di laboratori quindi presentiamo abbiamo voluto proprio noi inserire alcuni pochi laboratori un po' più complessi un po' più strutturati proprio per dare la possibilità anche diciamo proprio nello sviluppo di certe potenzialità ad esempio mi viene a pensare appunto alle eccellenze eccetera quindi di poter dare un'ampia scelta agli insegnanti stessi e agli studenti però qualora quei laboratori un po' più difficili non fossero realizzabili abbiamo fornito la possibilità anche di vederli riprodotti in filmato o addirittura da utilizzare questi filmati proprio come procedura visiva di eventuali laboratori poi da realizzare in classe in un secondo tempo quindi in effetti abbiamo proprio questo questo aspetto quindi sono anche essi ripeto sono utilissimi sia nel costruire laboratori oppure nel sostituire degli altri laboratori che non possono essere realizzati sì 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 rispondo solo a una domanda che arrivati in chat allora ambiente scienze adesso la versione demo con gli oggetti di cui vi parlavo quindi apparato respiratorio e così via potete magari la mettiamo poi al termine anche noi in chat il link della demo perché c'è la demo disponibile per la consultazione diciamo la fruizione pubblica ma potete anche chiedere al vostro agente di zona insomma se vi ha se avete un contatto diretto ma comunque vi lasciamo anche i contatti dei vostri agenti di zona per avere un'interlocuzione più veloce quando poi fate l'adozione quindi di tutto l'ambiente scienze quindi con tutti i 10.000 oggetti che ci sono a quel punto accedete da bsmart quindi da bsmart quando voi aprite andate su brain se fate l'adozione triennale 1 2 3 più ambiente scienze o 1 2 3 4 più ambiente scienze quindi è come se fosse un ulteriore libro che avete in aggiunta e da lì vi si apre tutto il layout che vi ho mostrato con la navigazione con tutti gli oggetti da esplorare e così via perché è veramente come se fosse non è un materiale che si inserisce puntualmente sulla pagina è proprio come se fosse un libro a sé in qualche modo come se avessimo regalato in qualche modo un libro ulteriore che consente un'esperienza didattica differente per questo abbiamo inserito direttamente su bsmart come se fosse un libro così voi veramente potete utilizzarlo come più vi piace a secondo delle esigenze senza dover seguire necessariamente la scansione interna al testo magari saltando da una parte all'altra usando lo strumento mappe oppure no lo utilizzate su bsmart per quanto riguarda quello complessivo la demo ecco adesso abbiamo messo anche il link in chat la demo è fruibile adesso in queste settimane durante il periodo delle adozioni per iniziare un po' a navigare sugli oggetti che vi ho elencato quindi la cellula l'atomo l'apparato respiratorio del sistema solare quelli che abbiamo visto anche adesso però potete un po' iniziare a prenderci la mano anche voi se avete altre domande abbiamo fatto vedere anche i videolaboratori come vi dicevo comunque se poi volete rivedere la registrazione dell'incontro precedente c'è tutta la spiegazione sul libro a 360 gradi magari qualcuno di voi ha anche visto i webinar precedenti del professor Carlini sulla chimica delle emozioni sull'uovo insomma sono sempre molto molto seguiti se avete necessità volete chiedere al professor Carlini facci un webinar su questa cosa e lui è super disponibile quindi tempo zero vi mette in piedi un webinar per rispondere alle vostre esigenze e sorride perché poi dice quello deve fare veramente diciamo tempo uno proprio tempo zero no tempo uno lo facciamo ma sì l'abbiamo già detto sono un chimico però sono appassionato di scienza e sono appassionato di trasmettere la scienza in generale proprio perché nasco come chimico però poi mi sono dedicato a tanti altri aspetti quindi è un piacere fare queste cose e provare a divulgare la scienza sì perché poi tra l'altro adesso non l'abbiamo detto perché ormai un po' ti conoscono però tu appunto sei un divulgatore a 360 gradi sei sempre in conferenze nelle scuole fai summer camp quindi insomma anche gli altri dottori sono molto attivi è proprio un testo che nasce dalla vostra esperienza sul campo questo ci teniamo a sottolinearlo anche a rischio di essere un po' pesanti però è veramente un testo che è nato a tavolino ma sul campo di battaglia in qualche modo perché voi sapete cosa succede in classe e non è scontato bene se avete altre domande noi siamo qui altrimenti se vogliamo lasciare i riferimenti per chiedersi richiamo eccoci il ritorno in realtà ero di fianco ma appunto le informazioni principali ve le abbiamo ricordate anche in chat sono gli ultimi due messaggi che trovate quindi se avete piacere di ricevere una coppia saggio qualora non l'abbiate già ricevuta dai nostri agenti potete contattare l'agenzia di riferimento del vostro territorio al link che vi ho lasciato trovate la cartina di tutta Italia e cercate la vostra provincia e da lì troverete i contatti se invece preferite avere un contatto diretto con la casa editrice potete scriverci o attraverso i social o all'indirizzo mail che vedete riportato che è formazionechiocciolalatteseditori.it e potete scrivere direttamente qui in casa editrice vi daremo noi i contatti dell'agenzia di riferimento vi ho condiviso la demo appunto nel link che vedete l'ultimo in chat così se volete potete curiosare dare una sbirciatina credo di non avere tralasciato nessun'altra informazione magari ricordo solo per chi si fosse collegato durante il webinar che sia questo che tutti gli altri webinar che abbiamo fatto con il professor Carlini sono registrati e li trovate sul sito di Lattes abbiamo proprio un'area dedicata a tutti i materiali della formazione dove trovate le registrazioni di tutti i nostri webinar e tutte le slide che li hanno accompagnati quindi se volete dare un'occhiata o condividerli magari con qualche collega li trovate tutto quanto come diceva già prima Carmela se ci sono suggerimenti rispetto agli argomenti che vi piacerebbe venissero trattati nei prossimi incontri scriveteci anche lì o via mail o sui social e insomma ricevere suggerimenti da parte vostra ci fa sempre molto piacere perché chiaramente ci consente di proporre un'attività che sia più vicina alle vostre necessità anche alle vostre curiosità e ai vostri interessi quindi sono più che ben accetti direi che se non ci sono altre domande ringrazio intanto Riccardo Carlini e Carlini dal mio fianco per averci accompagnati in questo viaggio dai pianeti alle cellule alla condivisione dello schermo alla condivisione dello schermo perché tutto è come dire c'è tutta una scienza a volte anche fatta un po' di così improvvisazione come nella condivisione schermo ma abbiamo trovato sempre delle soluzioni e poi ringrazio tutti voi per l'attenzione e il tempo che ci avete dedicato oggi grazie buona vi aspettiamo insomma i prossimi appuntamenti vi aspettiamo anche aspettiamo anche di leggervi di leggere i vostri commenti anche sul libro man mano che lo avrete per le mani se volete darci i vostri feedback rispetto a a come è fatto cosa funziona e anche a cosa non funziona secondo voi per consentirci di far sempre meglio vi leggeremo con grande piacere grazie ciao a tutti e tutte grazie a tutti